Crayon risponde. Canalizzato da Lee Carroll. Cosa rispondere a chi nutre ostilità verso l'Islam? 1 febbraio 2002. Caro Crayon, con l'escalation delle ostilità tra la sciad islamica e di poteri occidentali che si giocano a livello dei media mondiali, come può un operatore di luce degli U.S. rispondere ad amici, familiari e cooperatori di luce che vogliono cavalcare l'onda del patriottismo e creare maggior fervore bellico? Questa è la prova, non è vero? Vi abbiamo detto molte volte che la guerra sarebbe stata il vecchio contro il nuovo. Potete ora vedere che è una battaglia tra la vecchia e la nuova consapevolezza. Accade all'interno della consapevolezza del terrorista e della vecchia consapevolezza dell'occidentale seduto a casa che guarda. È un conflitto mondiale, ma riguarda ogni persona, non gruppi di persone. Non vi colpisce la stranezza di come potreste essere in guerra con qualcuno che non ha confine o una struttura definita? Questo perché è una guerra che sarà vinta o persa attraverso la scelta individuale dell'umanità uno per uno. Come può un operatore degli U.S. rispondere? La risposta è, con l'attivazione della terza lingua. Di nuovo, vi diciamo che questa è una connessione con lo spirito che dona ad ogni essere umano una saggezza equilibrata per vedere dentro questa battaglia. Primo, comprendete che a rispetto di ciò che appare all'esterno, la battaglia non è tra culture o religioni. È tra un nuovo ed un vecchio paradigma di civiltà. Ricordate anche che gli U.S. furono fondati sull'idea che tutti furono creati equamente e che tutti hanno il diritto di scegliere liberamente. Quindi la risposta alla tua domanda è, rispetta chi reagisce con rabbia, perché tu vedi una reazione umana di base. Comunque, dai energia e saggezza a quelli che sono le RADERS e ai capi del mondo tramite il tuo potere di operatore di luce. La tua consapevolezza può creare il cambiamento. Può far brillare la luce in aree e buie. Puoi fare la differenza, anche senza dire una parola. Puoi non prendere posizione. Puoi rispettare il diritto della libera scelta. Puoi inviare luce dove è necessario malgrado la travolgente reazione umana di vendetta e reazione. Puoi amare quelli che potrebbero avere minore saggezza, ma più compassione. Questo è ciò che chiamiamo lavoro. Crayon. Crayon.